Benvenuti a Vips, quest'oggi parliamo di saluti e presentazioni secondo il nuovo Galateo. Quando usciremo per strada e intreceremo nuovamente dei rapporti sociali, l'approccio sarà inevitabilmente diverso. Vediamo insieme quali potrebbero essere le nuove opzioni di saluti e presentazioni seguendo le regole del Ministero della Salute e del Galateo. Sicuramente dovremo mantenere le distanze l'uno dall'altro di circa due metri e indossare la mascherina per proteggere gli altri e di conseguenza noi stessi. Ma come salutare? Potremmo fare un cenno con la testa e sorridere con gli occhi oltre a salutare con la voce. Ma come presentarsi? Non potremmo più dare la mano, ma nemmeno il gomito. Lo trovo imbarazzante. Evitare contatti fisici è la soluzione più indicata, perciò il cenno con la testa accompagnato dalla voce potrebbe valere anche per le presentazioni. La tradizione giapponese non prevede la stretta di mano, ma l'inchino con tutte le sue varianti. Non dico di imparare il saluto tradizionale giapponese, ma un gesto con la testa, con un leggero inchino, può essere la soluzione migliore visto il contesto attuale. Un altro saluto possibile e anche ricco di significati profondi e spirituali potrebbe essere quello della tradizione indiana, ovvero il Namaste. Namaste significa minchino a te, saluto entrato nella nostra cultura grazie alle discipline olistiche. Consiste nell'unire le mani come segno di preghiera e chinare il capo leggermente. Con un Namaste riconosciamo il Dio che è in ognuno di noi, non la superiorità dell'individuo. Per questo motivo non ci sono saluti che stabiliscano la scala gerarchica delle persone, perché i saluti asseriscono l'eguaglianza degli esseri umani, manifestazioni del divino e ne onorano la sacralità. Ricordate, se qualcuno vi tenderà la mano, non sarà assolutamente scortese ricordarli in modo gentile di evitare i contatti. Sarà una questione di educazione, rispetto e di galateo. E voi, avete pensato a quale potrebbe essere il nuovo saluto? Avete delle idee? Scriveteci sulla nostra pagina Facebook oppure sul mio sito matildecalamai.net Alla prossima!